Primavera in arrivo? Urge un invito per un aperitivo. Che ne dite se ci vediamo tutti mercoledì 10 maggio? Abbiamo il posto, il Frida Concept Café in zona Germanedo, poi vi mettiamo le indicazioni, e abbiamo l'occasione, c'era da Ippocampo che per i suoi vent'anni regala questa meravigliosa borsa a chi acquista almeno 60 euro di libri del loro catalogo. E allora noi cosa facciamo? Andiamo al Frida's Café alle 6 di pomeriggio, ci trovate lì noi librai con la selezione di titoli Ippocampo, quindi conoscendoci praticamente tutti, e ve li racconteremo, ci sarà modo di bere ovviamente, di alcolici e analcolici, fatti da loro roba super inventiva, l'abbiamo un po' provata, io e Santi ci siamo innamorata, di guardare i libri Ippocampo e di scegliere se arrivate ai 60 euro, zan zan zan, la borsa è in omaggio. Vi aspettiamo mercoledì 10 maggio, non c'è ovviamente bisogno di prenotare, ci vediamo direttamente su, arrivate alle 6 e mezzo, arrivate alle 7, alle 7 e mezzo va sempre bene, fino alle 8, 8 e mezzo ci trovate lì, ciao!